Sono più di 70 i corpi trovati sulla costa occidentale libica in meno di 24 ore. La macabra conta è stata fatta dalla mezzaluna rossa locale, intervenuta dopo che le vittime del naufragio erano state avvistate da abitanti della zona. I migranti, provenienti da diversi paesi dell'Africa, hanno trovato la morte mentre cercavano di raggiungere l'Europa. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della città di Zauia, una cinquantina di chilometri a ovest di Tripoli. Le autorità libiche, che non escludono che il mare restituisca altre vittime, hanno anche rinvenuto l'imbarcazione, vuota e senza motore, su cui presumibilmente queste persone erano state fatte salire dai trafficanti. A largo della Libia, intanto, la Guardia Costiera italiana è intervenuta per trarre in salvo altri 630 migranti che viaggiavano su una barca in legno e su un gommone. In mattinata dal Papa era arrivato l'ennesimo appello alle istituzioni perché vengano istituiti canali umanitari sicuri e adottate politiche giuste e lungimiranti. L'obiettivo è provare a dare una risposta a un'emergenza mondiale.